In pochi giorni ha fatto qualcosa di grandioso nella nostra regione, in quanto aspettavamo da tempo delle risposte serie, sia su questa grande calamità che abbiamo avuto con Muria, sia da parte dell'accidenta, che è una tragedia incredibile, un'apocalisse che potrà distruggere non solo la Puglia, ma sarebbe già un disastro, un'esemplificazione pazzesca, ma che va avanti. C'è caduta, caro Ministro, anche perché è arrivata dall'Europa, perché nei porti, quando hanno sbarcato queste piante ornamentali, del caffè o del rosso, purtroppo non sono state sufficientemente controllate, ci siamo recepienti, perché non avevamo nessuno di questi problemi. Comunque io voglio ringraziare il Ministro, la sua disponibilità, il Sottosegretario, il Sottosegretario dell'Aulio di Cultura che aspettiamo in Puglia, il Ministro lo aspettiamo, questo è una grande gioia, il 31 giù in Puglia, grande collaborazione, come ha detto, grande tranquillità, ma ecco quello che ci ha interessato molto, ci è piaciuto molto, è il tavolo di crisi, noi crediamo molto in questo tavolo di crisi, che si è aperto oggi e deve essere un tavolo serio, eccetera. I nostri trattori sono in moto, se non volessero arrivare i risultati, ripartono i trattori. Grazie.